Il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, ha emesso un'ordinanza con cui stabilisce che la ditta Sostauto, che gestisce il servizio di sosta nelle zone blu della città, esoneri dal pagamento della tariffa oraria per la sosta, le persone invalide che, dotate di contrassegno, non potendo usufruire del posto appositamente riservato, occupino uno stallo nelle zone blu. Pertanto, prosegue l'ordinanza, sino alla data in cui, con conferenze di servizi, saranno concordati o è possibile, e sempre nel rispetto della prevalenza dell'interesse pubblico e della tutela dei soggetti più deboli, termini e modalità di gestione, la sosta per i disabili rimane gratuita anche nelle strisce blu e non costituisce infrazione soggetta verbale di contravenzione. Il provvedimento del primo cittadino mette un punto fermo alla situazione di incertezze, alle polemiche determinatesi, dopo che, in deroga quanto sinora registratosi, il concessionario aveva negli ultimi giorni elevato verbali di infrazione nei confronti dei disabili. Partirà a Caltagirone a breve il servizio di ritiro porta a porta degli indumenti usati a cura della ditta Nuova Alba di Mineo, lo rende noto l'assessorato comunale all'ecologia retto da Francesco Caristia. La raccolta verrà effettuata una volta a settimana, una al centro storico e un'altra nell'area urbana del centro nuovo. Per il 2017 le giornate di raccolta sono stabilite secondo questo calendario. Le eventuali variazioni delle giornate di raccolta verranno comunicate per tempo. Gli indumenti usati, si sottolinea dall'assessorato, dovranno essere posizionati in un sacchetto chiuso davanti alla porta di casa o per i condomini davanti ai cancelli di accesso pedonale o carrabile, nelle giornate sopraindicate dalle 7 alle 12. Si invitano tuttavia i cittadini a non ritirare il sacchetto sino a quando non verrà recuperato dalla ditta. I cittadini residenti al di fuori delle aree indicate o coloro che avessero particolari esigenze possono rivolgersi all'impresa ai numeri telefonici 0933 98 27 78 oppure 340 02 21 8 6 6 6. Si precisa che nessun'altra ditta è autorizzata da questo comune a effettuare questo servizio. Su iniziativa dell'assessorato comunale all'ecologia lunedì 25 nel centro storico e martedì 26 nella zona nuova di Caltagirone dalle 23 alle 6 sarà effettuato dalla ditta che se ne occupa il servizio di disinfestazione per contrastare la proliferazione di insetti. I cittadini sono pertanto invitati nelle suddette giornate a lasciare chiuse le imposte e a non esporre sui balconi generi alimentari, panni ed altro allo scopo di evitare eventuali contatti con i prodotti usati. Venerdì 22 sarà celebrata in cattedrale l'assemblea pastorale d'inizio anno. Inizierà le 16 e 30 con un tempo di preghiera e di adorazione comunitaria cui farà seguito la relazione del Vescovo che riguarderà le indicazioni pastorali che egli ha individuato nello spirito di quanto il Santo Padre Francesco ha espresso nel capitolo ottavo della Moris Letizia e che assumono dunque lo spessore di un atto di carattere squisitamente magisteriale. Il documento fin dall'enunciazione del titolo Li benedie e le amò sino alla fine accompagnare, discernere e integrare la fragilità offre in modalità di riflessiva concretezza i criteri, gli atteggiamenti e le prassi da attuare certamente complesse e delicate coerentemente con le indicazioni sinodali e magisteriali sulla famiglia. Come emerso dagli incontri diocesani recenti nel prossimo anno pastorale 2017-2018 l'attenzione prioritaria della chiesa calatina sarà dunque riservata ancora più intensamente al tema della famiglia, snodo e riferimento ineludibile di ogni azione pastorale che punta a rendere percorribile ogni intendimento di nuove iniziazioni alla fede. Sabato 23 settembre alle 18 presso la chiesa di Sant'Anna di Caltagirone Rotary Club in collaborazione con la diocesi di Caltagirone e la parrocchia di Sant'Anna annuncerà alla città la prossima chiusura del processo diocesano tenutosi a Roma per la canonizzazione del servo di Dio Don Luigi Sturzo. Presenta in modera il notaio Filippo Ferrara, presidente del Rotary Club di Caltagirone. La prima sessione pubblica per l'inizio del processo di canonizzazione di Don Luigi Sturzo, figlio di Caltagirone e Gloria d'Italia, si svolse il 3 maggio del 2002 presieduta dal cardinale Camillo Ruini, vicario generale di sua santità per la diocesi di Roma. Sabato 30 settembre si svolgerà la giornata nazionale per amore per Abio, le pere più buone aiutano i bambini in ospedale. Anche i volontari Abio di Caltagirone, 5.000 in tutta Italia, porteranno in piazza, 150 in tutto, il sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale. A Caltagirone l'appuntamento è a Piazza Bellini, sabato 30, dunque dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Per tutta la giornata i bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi, una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato. Tutti potranno sostenere Abio e ricevere il simbolo della giornata, un cestino di pere IGP dell'Emilia-Romagna, offerte e distribuito dal Consorzio Opera. Grazie al contributo di tutti, le associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane. La giornata nazionale ha ricevuto il patrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa calatina ha ottenuto il patrocino della Regione Sicilia, della provincia regionale di Catania, del Comune di Caltagirone, dell'ASP3 di Catania. Ricordiamo l'SMS solidale per il sorriso dei bambini in ospedale. Sino al 9 ottobre è possibile sostenere i progetti di Fondazione Abio tramite SMS chiamate al numero solidale 45529. Sino al 9 ottobre è possibile sostenere i progetti di Fondazione Abio